I rituali sui bambini. Ho lasciato consapevolmente per ultimi i ricordi che mi fanno più male. Non posso però evitare di raccontarli qui perché sono convinta che sia necessario rendere tutti consapevoli di quello che veramente sono e fanno le sette sataniche. Il peggio succedeva quando era la vigilia delle feste dedicate agli angeli e ai bambini. I tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, 29 settembre, gli angeli custodi, il 2 ottobre, il Natale, 25 dicembre, i santi innocenti, 28 dicembre, l'Epifania, 6 gennaio, la presentazione del neonato Gesù al Tempio, 2 febbraio, la cosiddetta candelora. In particolare queste ultime tre circostanze vedevano in primo piano i rituali sui bambini che per me sono stati i più drammatici in assoluto. A volte durante la messa nera un bambino veniva chiuso vivo dentro un sarcofago però non so se poi lo lasciavano oppure lo toglievano. In quei riti la dottoressa mi portava via prima della conclusione dato che non avevo ancora raggiunto il livello giusto all'interno della setta. In un'altra circostanza a una bambina è stata fatta bere una pozione che credo fosse velenosa poiché subito dopo ha cominciato ad avere dolori atroci alla pancia. Si contorceva in maniera pazzesca fino a cadere a terra priva di sensi. La notte del 5 gennaio era destinata al battesimo diabolico con la consacrazione dei neonati a satana. Una madre portò davanti all'altare un bambino che poteva avere due o tre mesi e lo consegnò al sacerdote che fece con il pugnale una spersione di sangue sul suo corpicino e pronunciò alcune formule. La donna venne premiata con un rapporto sessuale con il sacerdote con un altro adepto a sua scelta. Al momento dell'elevazione del calice le fu permesso inoltre di alzarlo tenendolo insieme con il sacerdote e questo era davvero un grande onore. Un'altra volta ho visto la consacrazione del feto che una gestante ha fatto offrendolo a satana mentre ancora portava il bambino nella pancia. Quella donna l'ho rivista nelle settimane successive. Poi purtroppo poteva capitare che il figlio nascesse o fosse tirato fuori con il cesareo e avesse vita breve perché tutto era in funzione della glorificazione del demonio. Quei neonati, figli delle donne che facevano parte della setta, venivano partoriti clandestinamente con l'assistenza di medici compiacenti e non risultavano registrati all'anagrafe. Io non ho mai preso precauzioni per evitare di rimanere incinta nonostante nei riti ci fossero rapporti di ogni tipo. Ne venivano utilizzati i preservativi neanche contro il rischio della trasmissione di malattie sessuali. Comunque quando una di noi era incinta veniva considerata una prediletta di satana e suo figlio nella nostra follia rappresentava un dono per lui. Nella notte del 27 dicembre in spregio di quei bambini che furono uccisi da erode e che la chiesa cattolica venera come martiri innocenti veniva offerto a satana il sacrificio di un bimbo. Qualche settimana prima durante un sabato notte avevo sentito il sacerdote arrabbiarsi con un confratello che non aveva ancora trovato il bambino da offrire per quella data. Evidentemente poi quella tragica ricerca era andata a buon fine. Si trattava di un maschietto di 6-7 anni vestito con una tunica bianca senza cappuccio. Stava attaccato alle braccia del sacerdote come se si fidasse di lui e probabilmente era stato drogato. Le formule utilizzate non le avevo mai sentite in precedenza. Veniva invocato soltanto a Smodeo mentre nelle altre occasioni sentivo nominare anche Lucifero e Belzebù. La dottoressa mi stava di fianco e mi sussurrava vedi com'è fortunato lui può donare a Satana la sua innocenza. Mentre un altro adepto teneva fermo il bambino il sacerdote lo stese sull'altare e cominciò a fargli sgocciolare addosso cera bollente. Anche altri confratelli gli posarono sul corpo piccoli carboni accesi. Il piccolo urlava e in tutti noi cresceva la rabbia verso di lui. Poi il sacerdote lo sodomizzò e altrettanto fecero gli altri maschi della setta. A vedere gli abusi pazzeschi a cui veniva sottoposto questo povero bambino provai un blocco che mi rese totalmente incapace di fare una qualunque cosa contro di lui. Probabilmente mi era tornata in mente qualche violenza subita nella mia infanzia. La dottoressa decise allora che per poter fare ulteriore carriera nella setta avrei avuto bisogno di una o più intensa terapia. Avrebbe intensificato le sedute per aiutarmi a superare il mio blocco con i bambini. Era già in programma subito dopo che avessi portato a compimento la missione contro Chiara, una messa nera in cui era prevista l'offerta di un bambino a Satana e io avrei dovuto dimostrare di avere superato il mio blocco. Sceppi dalla dottoressa che dovevo formarmi adeguatamente perché in alcuni riti l'offerta di un bambino a Satana avrebbe dovuto concludersi con il taglio dei testicoli e la deposizione del cuore del bimbo dentro al calice. Sono quegli occhi smarriti e terrorizzati l'incubo che mi porterò dietro per tutta la vita anche se alcune scene a cui ho assistito durante questi riti in cui tra l'altro ero imbottita di droghe e di alcolici devono essere state talmente traumatiche per me che non riesco neanche a ricordarle. Quando mi torna in mente qualche flash provo un dolore così lancinante che ho proprio l'impressione di impazzire. Anche di recente quando mi hanno messo in braccio dei bambini piccoli sono stata presa da un'angoscia che mi ha costretta a ridarli alla mamma e a scappare via fra le lacrime. Quando nei primi tempi della conversione mi confidavo con Chiara le ripetevo che anche se la misericordia infinita di Dio mi avesse perdonata io non sarei mai riuscita a perdonarmi per avere assistito a tali riti così orribili. Per quello che ho compreso alcuni dei bambini sacrificati dalla sette erano stati presi per strada scegliendoli fra quei piccolini che chiedono l'elemosina ai semafori e dei quali nessuno in sostanza sicura. Se anche scompaiono è difficile che le loro famiglie zingare facciano la denuncia alle forze dell'ordine. Altri bambini arrivavano invece dal giro della pedofilia che non di rado è invece una copertura per le attività sataniche. Nel rito del 27-28 dicembre io non riuscì a compiere nessun tipo di violenza su quel bambino nonostante le sollecitazioni della dottoressa che mi ripeteva distruggi lui e sparirà anche l'infanzia terribile che hai vissuto. Tornate a casa nei giorni in cui mi preparava all'omicidio di Chiara mi diceva che prima di diventare sacerdotessa avrei avuto un'altra opportunità per violentare un bambino nella cerimonia dell'1-2 febbraio quando la setta fra l'altro consacrava le candele che sarebbero state utilizzate nel corso dell'anno. Fino ad allora non mi era mai venuto il pensiero ma che cosa sto facendo? Tutto mi scorreva dinanzi come se fosse normale. Addirittura ogni volta che partecipavo a un nuovo rito mi sembrava di averlo già vissuto in precedenza. A partire da quel momento cominciò invece a infiltrarsi in un angolino della mia mente qualche dubbio su ciò che stavo compiendo. Al blocco emotivo che mi aveva attanagliato durante il rito sul bambino si era inoltre aggiunta la paura che anch'io avrei potuto prima o poi fare la stessa fine di una delle ragazze che erano state sacrificate. Nel contempo però sentivo la voglia del potere che la promozione a sacerdotessa mi avrebbe fatto raggiungere. Un sentimento altalenante nel quale continuerò a dibattermi anche dopo essermi rifugiata in comunità a Trigoria, mentre padre Raffaele combatteva il mio sostegno mediante gli esorcismi. Capitolo quinto Il lento cammino della resurrezione Con i due abbracci di Chiara, il primo del 6 e il secondo del 17 gennaio 1997, per me tutto era finito e tutto era incominciato. Quei gesti non avevano rappresentato un semplice saluto fra due persone che si erano incontrate, ma si erano trasformati nel segno della pace fra il padre e il figlio ritrovato. Io ero davvero il figlio al prodigo che ritorna a casa dopo aver sperimentato la distruzione. In quell'attimo scoprì Dio e ritrovai l'amore. Una donna aveva ridato vita alla mia anima morta, secondo quanto mi era stato profetizzato alcuni anni prima. Nel frattempo però, nella setta, doveva certamente essere scattato l'allarme, quando hanno avuto la conferma che ero fuggita e mi ero nascosta. Dapprima si saranno interrogati su come uccidermi, poi avranno adottato delle precauzioni per evitare che ciò di cui ero a conoscenza potesse danneggiarli. In seguito mi sono resa conto che molto probabilmente io per loro rappresentavo unicamente una pedina, nel senso che, dopo aver eliminato Chiara, sarei stata eliminata dalla polizia e sarei finita in carcere. Con il senno di poi, credo proprio che avrei in ogni caso fatto una brutta fine, sia se avessi compiuto la mia missione di morte, sia se fossi tornata a un incontro della setta senza avere realizzato l'omicidio, perché erano persone troppo furbe che non avrebbero potuto rischiare di tenere in vita una testimone come me. Il loro ragionamento doveva essere stato questo. Meglio uccidere Chiara subito, sapendo che comunque non avrebbero mai potuto avere la sua anima, poiché l'obiettivo della setta è quello di portare a dannazione quante più persone possibile, in quanto la sua attività per accogliere giovani nella devianza avrebbe fatto perdere a Satana molte più anime. E per ottenere questo scopo non c'era problema a sacrificare me. Dopo qualche settimana dal mio arrivo a Trigoria, padre Raffaele mi disse che la dottoressa non poteva più fare del male a nessuno, dunque pensai che l'avessero fatta fuori quelli della setta, sapendo che lei era l'unico collegamento a me noto, oppure che fosse finita in carcere. Ma padre Raffaele ha avuto la delicatezza di non farmi più sapere nulla di quell'ambiente. Mi ha soltanto dato la tranquillità di non dovere avere più timore di loro. Non ricordo esattamente il giorno, ma ho nella mente il flash di un viaggio che in quei primi tempi feci con padre Raffaele e alcuni suoi collaboratori. Mi sembrava di stare in un film di spionaggio, mentre viaggiavamo su un'automobile blindata verso l'abitazione nella quale avevo vissuto durante il tempo della setta. Giunti sotto casa, uno del gruppetto era sceso per fare un giro attorno all'isolato, mentre un altro era salito fino al mio piano per verificare che non si notasse nulla di anormale. Poi tutti insieme entrammo in casa, e meno di un quarto d'ora loro prelevarono tutto ciò che era importante. I vestiti, il computer, carte e agende. C'erano sparsi per la casa anche molti oggetti relativi alla setta. Medaglie e braccialetti con simboli satanici, orecchini particolari che mettevo durante i riti con i pendagli a forma di stella a cinque punte. Una delle cose più curiose che trovarono fu un cuscino con l'imbottitura fatta di foglie ed erbe particolari, che la dottoressa mi aveva dato da utilizzare quando non riuscivo a dormire. Tornati a Roma, tutto venne bruciato nel cortile di una struttura religiosa. Nuovi indumenti e oggetti personali mi furono dati dopo essere stati benedetti dall'esorcista. In particolare, padre Raffaele mi ha raccontato che la tunica bianca della mia consacrazione satanica, l'unico abito rituale che tenevo io, poiché la tunica e il cappuccio per le cerimonie mi venivano dati volta per volta dalla dottoressa, che poi se li riprendeva, andò a fuoco non appena lui la cosparse con l'acqua benedetta e in un attimo si ridusse completamente in cenere. Nel mio appartamento trovarono anche una complessa attrezzatura informatica. Uno di quelli che mi accompagnò era uno specialista della polizia e mi disse che neanche loro avevano strumenti così sofisticati. Ripensandoci mi sono resa conto che probabilmente rientrava in un piano della setta, nel caso fossi stata ancora in condizione di lavorare per loro, coinvolgermi nel mondo della pedofilia via internet. Proprio in quei mesi era al centro dell'attenzione il Belgio con le tristi vicende di alcune bambine rapite e uccise, e io ricordo che mi avevano accennato a dei contatti che avrei dovuto avere con questa nazione e con l'Olanda. Una cosa che mi ha sconvolto dopo qualche anno è stato il vedere una fotografia polaroid che padre Raffaele aveva trovato in una mia agenda, nella quale era ritratto un bambino di tre e quattro anni, seduto in una macchinina di UFO robot, al cui fianco si vedevano le gambe di una donna, forse la mamma. Il vago ricordo che conservo è che si trattava di un bambino che qualcuno della setta aveva appuntato per un rapimento, e probabilmente avrei dovuto addirittura essere io quella incaricata di prelevarlo e farlo sparire. La mia rinuncia a Satana Nella mia mente c'è come un enorme buco nero al riguardo delle prime settimane dopo la fuga. Quello che ho vissuto l'ho ricostruito a poco a poco in tutti questi anni, attraverso i racconti di padre Raffaele e dei pochi che all'epoca garantivano la mia sicurezza, alternandosi giorno e notte al mio fianco nell'appartamento segreto dove ero stata ospitata. Tutti i giorni mi portavano da padre Raffaele per degli esorcismi, ed è stato un dramma, perché io ero veramente al massimo livello dell'azione diabolica. Leggendo il libro di Don Gabriele Amort, un esorcista racconta, ho compreso meglio che l'azione del demonio può essere di due tipi. Quella ordinaria e rivolta a tutti gli uomini per tentarli al male. Quella straordinaria è consentita da Dio soltanto in determinati casi. Padre Amort classifica quest'ultima in sei forme diverse. Le sofferenze fisiche causate da Satana esternamente sono fenomeni legati alla vita di numerosi santi che non necessitano di esorcismi. Le infestazioni diaboliche hanno per oggetto ogni tipo di cose e di animali, non le persone. L'ossessione diabolica riguarda assalti improvvisi, talvolta continui, pensieri ossessivi, talvolta anche razionalmente assurdi, ma tali che la vittima non sia in grado di liberarsene. La vessazione diabolica consiste in disturbi e malattie da molto gravi a poco gravi, che però non giungono alla possessione, a far perdere la conoscenza, a far compiere azioni o pronunciare parole di cui non si sia responsabili. Vengono quindi le due situazioni peggiori. La possessione diabolica è il tormento più grave e al luogo quando il demonio si impossessa di un corpo, non di un'anima, facendolo agire o parlare come lui vuole, senza che la vittima possa resistere, quindi senza che ne sia responsabile moralmente. Infine, la soggezione o dipendenza diabolica si verifica quando volontariamente ci si sottomette alla servitù del demonio. Le due forme più usate sono il patto di sangue con il diavolo e la consacrazione a Satana. La mia condizione era proprio quest'ultima, la più terribile e difficile da combattere. Padre Raffaele era ovviamente abituato ad affrontare situazioni nelle quali il demonio manifestava la sua presenza in ogni modo e non aveva alcuna intenzione di sgombrare il campo. Ma il mio caso gli è risultato sin dagli inizi uno dei più estremi che gli fossero mai capitati. Quello che so è che appena lui cominciava a pregare su di me, io crollavo e ne combinavo di tutti i colori. Manifestavo una forza sovrumana, tanto che una volta feci volare per aria quattro ragazzi che cercavano di bloccarmi. Mi è stato detto dai suoi collaboratori che ero realmente ingovernabile e che loro durante le prime sedute erano costretti a legarmi a un lettino. Ricordo l'umiliazione che provavo quando riaprivo gli occhi e mi ritrovavo legata, mentre padre Raffaele recitava formule in latino e altre persone nella cappellina di fianco pregavano in continuazione. A volte il dolore era tale che mi mettevo a piangere, ma lui mi tranquillizzava e la comunità mi sosteneva e mi dava forza per affrontare quei momenti così duri per me. Mi dicevano che gli esorcismi erano durati dalle quattro alle otto ore, ma io non avevo alcuna cognizione del tempo trascorso. Tra le poche cose che rammento, c'è che quando padre Raffaele nominava la parola a Lucifero, mi prendevano dei terribili mal di testa, come se nel cervello mi venissero infilati dei pugnali e quando nominava a Smodeo avevo dolori atroci agli organi genitali, come una mano che mi strappava le interiora. Nei momenti in cui ero lucida, padre Raffaele mi faceva ripetere delle preghiere con le quali spezzavo le consacrazioni diaboliche. Lì ho imparato a memoria il credo e le rinunce battesimali. Rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni, per le tante volte che me le ha fatte ripetere. Mi faceva leggere anche la famosa preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sei il presidio contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio eserciti il suo dominio su di lui. E tu, principe della milizia celeste, per mezzo della potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per la perdizione delle anime. Amen. A scriverlo era stato Papa Leone XIII dopo aver avuto il 13 ottobre 1884 una terrificante visione nella quale sentì la voce di Satana minacciare la distruzione della Chiesa e vide che alla protervia demoniaca si opponeva con forza l'Arcangelo Michele. Il pontefice ordinò che quel testo venisse pronunciato al termine di ogni messa. La disposizione è stata abolita da Paolo VI con l'istruzione inter-ecumenici del 26 settembre 1964, ma Giovanni Paolo II, nel Regina Cieli del 24 aprile 1994, invitò nuovamente a recitarla ogni giorno. Questa preghiera anticipa tante affermazioni che la Chiesa dei nostri tempi ha proposto a riguardo delle forze infernali. Mi limito a due citazioni, la storia universale è una dura lotta contro le potenze delle tenebre, lotta cominciata fin dall'origine del mondo e che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Resta per certo che la realtà demoniaca, attestata concretamente da quello che chiamiamo il mistero del male, rimane ancora oggi un enigma che avvolge la vita cristiana. Noi non sappiamo molto meglio degli apostoli perché il Signore lo permette, né come lo fa servire ai Suoi disegni, ma potrebbe accadere che, nella nostra civiltà invaghita di orizzontalismo secolare, le esplosioni inattese di questo mistero offrano un senso meno refrattario alla comprensione. Esse obbligano l'uomo a guardare più lontano, più in alto, al di là delle immediate evidenze, attraverso la minaccia e la prepotenza del male che impediscono il nostro cammino. Ci permettono di discernere l'esistenza di un al di là da decifrare e di volgerci allora verso Cristo per ascoltare da Lui la buona novella della salvezza offerta come grazia. Documento